Abbiamo spesso di sognare, di pensare, di lato poi ci assopre e ci confessa, il tre mese passa. Ha detto lo spirito santo aiutaci, se guardi in su non puoi sapere dove vai. Ma se vogliamo dirazzare questa nave, ce la facciamo e semmichiamo i remi mai. Ha detto lo spirito santo aiutaci, se guardi in su non puoi sapere cosa sei. Ma se pensare è possibile, ce la facciamo e se scegliamo le risposte. Grazie a tutti.